L'area industriale e artigianale alla chiusa di Colle Salvetti in provincia di Livorno, tre settimane fa, a seguito del maltempo, si è allagata. Qui insistono alcune delle aziende più importanti del territorio livornese, che ogni volta fanno i conti, con la pioggia che allaga i piani inferiori e i parcheggi. Indubbiamente quest'area soffre di una rete di raccolta dell'acqua piovana che è inadeguata. Probabilmente lo è stato fin dall'origine. Ora che il clima è cambiato è sicuramente inadeguata e pericolosamente inadeguata. Tutte le volte che c'è un temporale qui si raduna una quantità d'acqua che rischia di mandare sott'acqua macchinari importanti e costosi delle aziende che sono insediate. Figuriamoci ora che ormai il clima è cambiato e che si verificano eventi che vanno al di là dell'ordinario. Da qui la richiesta del CNA all'amministrazione comunale di trovare una soluzione il prima possibile. È necessario innanzitutto cercare di dare uno sfogo alle acque in questi campi che sono qui alle mie spalle. Secondo, bisogna iniziare subito da parte del comune a fare una manutenzione della rete esistente ed una riprogettazione della stessa.